Siamo alle solite, un centro di massaggi che nasconde un'attività più disinvolta, per così dire. Stavolta è avvenuto in provincia di Padova, dove i baschi verdi del gruppo provinciale della Guardia di Finanza Euganea hanno individuato nella rutinaria attività di controllo del territorio una realtà gestita da una cittadina cinese, dove l'andiriviene di persone è risultata tale da insospettire i militari. Incrociando le indagini con numerosi annunci in siti di incontri per adulti, gli inquirenti hanno orientato gli accertamenti ad un'attività di prostituzione celata dietro l'apparenza dell'attività legale. È stata un'operazione concertata tra Guardia di Finanza, Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Servizio Antitratta della Regione Veneto a pianificare il blitz all'interno del centro, dove si trovavano la titolare e cinque ragazze cinesi, più altre due connazionali che si stavano prostituendo. Ulteriori accertamenti portavano alla scoperta di situazioni di degrado e mancato rispetto delle più elementari condizioni di igiene, oltre ad impianti non a norma e telecamere che video sorvegliavano strettamente le lavoratrici, obbligate a sottostare a turni massacranti di lavoro e a consegnare alla titolare gran parte delle somme di denaro incassate. Se a questo aggiungiamo che nessuna delle giovani era regolarmente assunta e che l'attività dichiarata, ufficialmente intestata ad una donna italiana, veniva svolta senza alcun tipo di autorizzazione, più il fatto che due delle citate ragazze sono risultate irregolari con una addirittura senza passaporto, il quadro accusatorio ha chiuso il cerchio con la denuncia della responsabile del centro e della rappresentante legale della società per favoreggiamento all'immigrazione clandestina, nonché sfruttamento della prostituzione con il deferimento delle due giovani irregolari per ingresso e soggiorno illegali nel nostro paese. Un aspetto bisogna riconoscere all'intrusione cinese, persino nel settore dell'amore mercenario è riuscita a creare una dimensione redditizia, incontrando il favore della clientela indigena, probabilmente anche a tariffe più convenienti del servizio nostrano, impreziosita dalla dedizione, attenzione e cura tipicamente orientali della donna nei confronti dell'uomo.